ok io sono diciamo zona muro aereo zona muro anch'io più o meno aereo dove ci troviamo? verso la casetta non lo so aspetta mi tengo ok allora io mi sono messo dietro un roccione ora io non so te quanto sei zona muro aereo io sono più vicino alla montagna ok allora mi sento un po' basso così va meglio allora andiamo verso la montagna dove l'altra volta? si chiamiamola zona bug vai diciamo zona tua bug sì dai ho speranza di non trovare nessuno nel muro qui mi metto a correre tanto sono qui signore dov'è signor pacca? ecco ti salve ok non c'è casco ok proprio nudo sono venuto nudo e crudo come mamma mi ha fatto che ora sono tutti uguali che ore sono? ecco già colpi guardo io nelle casse è meglio no? prima che ti bughi granate scoppiano qui hanno già luttato qui hanno già luttato buona era lontana la granata era lontana la granata? non tanto si mica tanto proviamo ad andare? proviamo vai ho visto stanno facendo dei nuovi giubbetti tattici spero si ho visto delle foto oggi su facebook sono entrati in collaborazione con cosa che gli produce realmente e glieli stanno facendo fare in gioco ok da dove? sopra la montagna l'ho spiso sei morto? io no ok torna indietro da te? si sono io questo dietro di te era qua sopra il bastardo che figlio di puttana vuoi il casco dai te lo do aspetta no voglio vedere che cosa ha questo c'è una k ma come cazzo hai fatto a luttarlo se sei giù? è qua il cadavere io invece lo vedo qui non riesco a luttarlo infatti l'hai preso? si c'è qualcun altro qui si è lì subito a destra si io mi devo curare si io mi devo curare eicchia l'hai ucciso spero si però mi ha fatto molto male hanno piatto cazzo perchè? si veda in gioco? no perchè gli ha sparato un sacco un sacco di colpi con lo shotgun da vicino ma chi è stu colpi qua che si sentono? non lo so non lo so non lo so non lo so è ancora qui su è ancora qui su non lo so non lo so cosa facciamo? io minchia c'ho il sangue davanti agli occhi ma cos'è sti colpi che sento? eh o c'è uno qua vicino che sta sparando a qualcuno che mi si accorta di lui non credo sia o è tutto bugato? io riprendo il casco prendi tutto pacca a go go qui ci sono due shotgun no a me non mi interessa sono molto troppo dove siete usciti? no cioè sono uscito dal bunker stavo cercando di entrare ma non ho molta dai siamo vicini oh aspetta non capisco oh c'è uno dove? dove? è al cimiterro braoo ma che arma era? non lo so non si vedeva in una sega io vedo solo la testolina della della testolina pelata ma sicuramente era uno scavo però sicuramente era uno scavo è vicino alla casa per tornare indietro ma aia sto correndo sto correndo verso l'uscita ma che cazzo ci fai qui sdraiato? stai dormendo? e che cazzo ci fai? sono mezzo morto io scappo aiuto ma quello ci tira corri che ti fa bene e corri quello mi spara e noi corriamo ecco dai che siamo allu... come mai non ci fai estrarre? sto estraendo estratto ma cosa? a me non me lo dice rimani lì ok forse mi dovevo curare non lo so ma sto estraendo alla fine è andata bene ragazzi si a cappa a cappa a cappa a cappa a cappa a cappa ok io sono alla montagna proprio io sono mi sa vicino alla pietra che che a una delle pietre zona centrale del muro raga io sono alla cata rossa sto descendo da verso di voi ok allora appena tu passi lungo il muro io ti vengo dietro ma io non esco dal muro oh io pacca vi aspetto dove mi avevi aspettato te lì all'albero ok salta chi lo salta? salta salta clicchiamo clicchiamo gp aiuto guarda che sono minorenne non è vero mai però l'uso come scusa sono grasso non riesco ok bullizziamolo aiuto ah qui è da dove si va su? oh 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 spara dove andate? eccolo oh lo vedo correre anche io io no è andato sotto la dimmi che continua ad andare verso il muro non continua ad andare verso il muro ok proviamoci avanziamo un po' perchè a presenza dove si sale no no io parco abbiamo una vittima da vittimare no oddio ci siamo buttati con questo questo è forse 10 km ragazzi io ho il PSO come cazzo ha fatto a salire lì? salta salta non riesco ah non ho più fiato no vabbè così sei proprio una testa di cazzo e vedi la gente che entra nella rientranza a parte quello che l'avevo scoperto poi io sono da parte più e vedo chi mi esitava la parte dai pacca crediamo qui ok eh ma da bastardi qua si ma guarda che dobbiamo vedere ancora più su adesso vabbè che sono uomo di montagna io ma le circondarie le dobbiamo vedere io sono più di collina no? però mi piace la montagna senti la che arieta ma dai ma chi è che è su? cioè ne... io sono qua ecco con aiuto con gp ma che salta con un gp no no gp non so perché conviene la vita no non conviene io mi sono fatto male cadendo aiuto oddio no vedi a fare i cazzoni ma non mi sono fatto niente lo giuro si si ma se facciamo tipo una cosa del genere io non si puole no di qua di qua di qua guarda che abbia una storia si lo vedo se è uguale a prima come no? no io vedo la mia arma che è sempre qui su mi sembra da te meno ragazzi ce l'ho fatta ma non c'è vostra ma dopo si riesce a scendere senza accopparsi si vai vai lei è il prossimo vado io vado? vado io ecco mi ragazzi sono qua sotto ecco hai preso il punto sbagliato dovete proprio guarda come saldi proprio al rally ti sembra oh mio dio aspetta 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 le forze fermo mentre le forze devi tenere pronto v e camminare avanti capito? si ok ce l'ho fatta attenzione ragazzi qui c'è tipo l'interla ma non c'è non c'è non c'è non c'è però copritemi eh che io sto salendo o almeno ci sto provando oh le forze sono degli alberi altissimi in questo gioco aspetta sto riprendendo le forze minchia sei alto qua ci sono quasi eh ce l'ho fatta magari dovrei salire sul pinnacolo eh? sul pinnacolo adesso saliamo eh che cazzo eccovi ah ci sono quasi aspetta iiii ce l'ho fatta dei salta stronzo ok ci siamo ma non vedo dove sali dove siete? adesso stai laggando devi attaccarti al muro eh si ma dove siete adesso? guardare tipo siamo sopra sopra oh eccovi salve guarda quanto scala devi attaccarti al muro con un fianco si ma devo schiacciare V? no sempre spazio e V e D contemporaneamente spero non sia un problema vabbè io però con sto fucile non è che posso far molto no infatti anch'io io finchè sparo a caso va bene ma poi non è che posso fare tanto poi non ha capino senza un PSO con quattro pesi io ho un PSO compenetrato con una caffa compenetrato con una caffa secondo me dobbiamo scendere perché è piuttosto buggato qua ma non ci si è piuttosto ma non ci si è piuttosto tu mi vieniוקca mi vuoi visitare se ne vedo ci sono onde fare si dove siete voi ci sono dove siete voi c'è chi ti èachino ahli nooo ha una cappella ma non è l'altrvere tu ero ma non è lì no 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 Ah, è l'orografico! Aspetta, che sei lì tu hai? No, ancora ancora questo non è lì No, ancora ancora questo non è lì All around me are familiar faces, worn out